Ciao a tutti ragazzi, oggi purtroppo non parliamo di calcio, vero e proprio, perché oggi è una giornata storica, è una di quelle giornate che ricorderemo a lungo e che probabilmente verrà scritta nei libri di storia per i nostri figli, i nostri nipoti, perché stiamo rivivendo un po' quello che abbiamo letto noi a nostra volta ai tempi elementari, delle medie, delle superiori, quando si parlava di guerra, si parlava di prima, seconda guerra mondiale e quello di oggi potrebbe essere l'inizio addirittura di una terza guerra mondiale, una cosa che detta nel 2022 fa abbastanza scappare da ridere e quindi ho scelto momentaneamente, poi vediamo se nel pomeriggio avremo necessità e possibilità di tornare a parlare di calcio che è quello che ci interessa, ma sentivo la necessità di fermare un attimo il tutto perché il calcio per quanto mi riguarda rimane al primo posto tra le cose non importanti, è la cosa più importante tra le cose non importanti e come feci ai tempi col covid quando avvengono nel mondo queste cose, io voglio provare a dare una mia opinione, una mia sensazione non tanto sul conflitto bellico, su quello che ha portato a questo conflitto, sugli schieramenti, non sono cose che mi affascinano in primis, mi interessano in seconda battuta e delle quali sono esperto, quindi non sono qui per fare banalmente anche solo disinformazione o dirvi secondo me bisogna muoversi così no perché io non ne so niente di guerra, ma qualche sensazione invece sì, qualche opinione personale invece sì perché sono l'unico in grado di dire quello che sta macinando il mio cervello in questo momento e poi cercheremo di fare alcuni collegamenti con il mondo dello sport e soprattutto del calcio, perché ci sono degli incastri particolari dato che noi in questo momento stiamo pensando a quello che sta avvenendo in Ucraina, nel frattempo la federazione calcio dell'Ucraina ha sospeso ovviamente tutti i campionati di calcio adatta di destinarsi, De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk e il suo staff in questo momento sono in un hotel e stanno cercando di capire come fare, se riusciranno a rientrare, se potranno rientrare, tra l'altro il suo staff composto da tanti italiani, i nostri connazionali che in questo momento si trovano là e sapete bene com'è no? Questa storia quando succedono queste cose vorresti essere ovunque tranne che nel punto esatto in cui queste cose si stanno svolgendo e quindi un grosso in bocca al lupo a De Zerbi, a tutto lo Shakhtar, a tutto lo staff e ovviamente un grosso in bocca al lupo a tutti, ovviamente anche tutti gli italiani che in quel momento, in questo momento sono bloccati e non sanno che cosa succederà loro nelle prossime ore, un grosso in bocca al lupo veramente a tutti quelli che stanno vivendo questa situazione e che in questo momento si ritrovano in un vero e proprio inferno. Tra l'altro non solo il campionato ucraino ma addirittura la Russia coinvolta in tutto ciò dal lato sportivo, dal lato calcio perché il 24 marzo si sarebbe dovuto a disputare quindi esattamente tra 30 giorni, un mese esatto da oggi, la partita playoff di qualificazione al mondiale in programma in Russia che vedrà protagonisti Russia e Polonia, partita che in questo momento secondo me diventa l'ultimo dei pensieri proprio della Russia, del popolo russo, non credo proprio che sia questa la cosa principale a cui penseranno in queste giornate, in queste ore, al fatto che tra un mese ci sarà uno scontro per andare al mondiale, credo proprio di no. E tra l'altro c'è una terza cosa che va a toccare temi calcistici e cioè che il 28 di maggio, cioè fra tre mesi e un po', praticamente tre mesi, a San Pietroburgo dove noi siamo già stati a giocare quest'anno nella fase a gironi della Champions, nello stadio dello Zenit, in teoria si giocare alla finale di Champions, finale di Champions che al pari del spareggio per andare al mondiale, in questo momento diventa l'ultimo pensiero in assoluto per quello che sta accadendo al mondo perché questa è una di quelle classiche situazioni in cui tu ti fermi, ti fermi e ti rendi davvero conto che abbiamo sempre pensato di vivere in alcuni anni migliori magari rispetto a quelli dei nostri nonni che hanno vissuto tante difficoltà, che hanno vissuto dolore. Tra l'altro c'erano tante testimonianze di persone che la guerra l'hanno fatta e poi con il tempo, passando il tempo e ovviamente subentrando malattie, anche mentali, quando si perde il senno poi hai sempre quel ricordo della guerra e credi ancora di essere in guerra perché è una cosa che ti ha segnato così tanto, così nel profondo, da non voler più tornare indietro. E ora che abbiamo fatto gli ultimi due anni d'inferno per via del Covid, sacrificando tante cose nella nostra vita, mettendo da parte tante passioni, ritrovarci in questa situazione qui non è esattamente il desiderio che potevo avere, non era assolutamente quello che avevo in programma nemmeno nei prossimi mesi. Ci sentiamo il nulla, ci sentiamo davvero il nulla. E pensare che nel 2022 possa iniziare effettivamente, ufficialmente, una terza guerra mondiale e pensare di vivere eventualmente una terza guerra mondiale ragazzi siamo su dei binari che non pensavo mai di dover attraversare. Un periodo storico che speravo di non vivere, a priori, a prescindere. Non me ne frega niente di quelli che sono i motivi, non me ne frega niente del perché uno fa una cosa, del perché l'altro reagisce, del perché poi uno entra, del perché uno esce. La guerra non dovrebbe esserci punto. Punto. In una società civile, in una società evoluta, come la nostra, o almeno presunta tale a questo punto. E dopo aver avuto due conflitti bellici a livello mondiale, a livello globale non abbiamo imparato niente, siamo punto a capo lettera maiuscola la storia non ci ha insegnato niente perché la storia, l'hanno sempre detto, è ciclica si ripete arrivano sempre a ripetersi e a ricitarsi però eravamo arrivati a un punto in cui io speravo davvero ci potesse mettere la parola stop anche solo all'idea di farci la guerra. Poi vediamo come reagirà anche l'Italia di conseguenza perché in questo momento è ovvio che ci sono degli equilibri che dovranno essere mantenuti, dei trattati che sono firmati in maniera preventiva non so cosa succederà, non ho idea se davvero siamo alle porte della terza guerra mondiale la mia speranza ovviamente è che no possa non essere così e che si possa semplicemente tornare a breve a parlare dei grandi problemi della vita come no, anche quest'anno non vinciamo la Champions oppure chissà se entriamo nelle prime quattro ci conviene cambiare l'allenatore abbiamo bisogno di un terzino sinistro sì, ma quale prendiamo io voglio scontrarmi con questi problemi quotidianamente non con quello che purtroppo hanno visto i miei occhi e letto i miei occhi in queste ultime ore perché è un punto di non ritorno sarebbe semplicemente un punto di non ritorno in grado di sconvolgere le nostre esistenze molto più di quanto non avesse già fatto in precedenza in precedenza del Covid niente, due parole le volevo dire perché è l'argomento del giorno abbiamo cercato di incastrarlo anche con il mondo del calcio sono molto scarico stamattina perché ancora una volta credo che l'umanità abbia perso a priori in partenza